Sì, sono le stracazzo di luna e mezza di mattina io mi devo sviluppare per colpa di mongoloidi con della musica di merda Non so se fossero canzoni belle almeno che è come se avessero dato uno stracazzo di come si chiama? Jukebox se mi carai occhi è uno stracazzo di dodicenne con dei gusti di merda nel rap stessa cosa comunque invece qua la gente può fare quello che vuole guarda le labbra scripolute scurata è stato spogandoloista vi saluto ripeto almeno a meno che sia musica decente fa schifo è come se adesso mettessi una live di Dario Moccia sugli autoparlanti del comune che lo sente tutto senza sofia sarebbe meglio una live di Darione d'altronde sono le due si va al letto si va al letto le scosche si così che si fa si così che si fa si così che si fa si va al letto per forza è bello ogni 15 secondi i gusti musicali scendono sempre di più manca solo che si mettono ad ascoltare PEDES sembrerebbe che dopo che due moto gli hanno ringhiato contro abbiano abbassato il volume di a meno metà perché la casa è più o meno a 230 metri da qui però riesco ancora a sentire quei mongolati di ubriachi urlare avevo detto che i gusti peggioravano ma loro non sanno che sono al sicuro di notte solo perché io tengo sicure le strade essendo Batman perché non sanno una cosa che succede di notte la cosa che succede di notte è Freddy cinque notti da Freddy io tengo al sicuro questo regno da Freddy Fazbear e i suoi cinque amici Chica la gattina della cucina Foxy la volpe pirata Bonnie il coniglio che va contro le leggi della fisica e Freddy poi Freddy il giallo Bonnie il giallo hanno appena detto Land World molto forte ma molto molto forte il ragazzo Viola sono salvi perché io tengo Gotham al sicuro perché sono Batman i 40 anni che si comportano da 12 anni ma c'è una mazza che picchia uno su un'altalena ha ribaltato l'altalena se avessi un fucile gli sparerei in testa a tutti che gusti di musica di merda io sono tentato di fare una cosa davvero insana ovvero prendere questo che è molto potente perché riuscii a prendere tutta la piazza del Duomo questa cosa prende tutta la piazza del Duomo voglio metterci per forza o ricroll sarà la batteria carica sono nella camera di miei fratelli come vedi sono le due hanno ricominciato veramente siamo pronti 3 2 1 l'auto aggiuntiva hanno continuato fino alle 3 e indovinate c'erano anche le canzoni di Fedez che richiedono quindi il peggio del peggio provate a indovinare perché non ho chiamato i carabinini perché intanto anche se li avessi chiamati a forza dell'ordine non sarebbero intervenuti si va a letto per forza si va a letto caffetti mi riprendo l'energie caffetti caffetti lo bevo sono contento e poi prendo una pistola e mi ammazzo il mio destino è già segnato è già segnato è già segnato